Video, finalmente ho comprato le scarpe da me ricercate, queste sono quelle tecniche che volevo Green Sport, queste sono per l'alta discendenza in montagna, diciamocelo per scendere dalla montagna quando al suolo c'è anche ghiaccio e neve, va benissimo sono andato giù Gemona e le ho comprate, ah finalmente, apriamo la scatola 1, 2, 3, 4, si presenta, wow, con protezione, tutte penso le scarpe abbiano queste protezioni ma vediamo le scarpe, wow, che belle, Green Sport, per altre prestazioni, guarda, wow queste sono proprio quelle scarpe che volevo per fare, oltre il trekking, anche la discendenza nella neve e nel ghiaccio, wow, queste scarpe sono fantastiche, wow, e che grip, guarda che grip, non si muovono tanto neanche sul legno, guarda wow, fantastiche, finalmente le ho acquistate, a Gemona, consiglio a tutti di andare a comprarle per non far pubblicità, dirò solo Gemona, però le trovi in Gemona, wow, Regione, Friuli, Venezia Giulia, wow, video, le scarpe, al cinema, guarda che scatola eh, tecnica, guarda, queste sono le classiche scarpe veramente bellissime, sai, per scendere dall'auto e andare su dove trovi le capre, i caproni, la discendenza, l'altitudine e ovviamente, aspetta, insomma volevo far vedere il barometro e l'altimetro ma non ce l'ho qui che c'è, l'ho messo in carica, col sistema USB, ok, al prossimo video, ciao ragazzi, andate in montagna